Toyota annuncia ricarica auto elettriche in Wi-Fi. Negli ultimi anni si sta sviluppando sempre di più il mercato delle auto elettriche e una delle case automobilistiche maggiormente all'avanguardia è senza dubbio la Toyota. Il boom sul mercato di queste elettriche non ancora c'è stato, forse perché le modalità di ricarica e i tempi della stessa sono ancora lunghi. Ma proprio la Toyota ha pensato di introdurre un nuovo sistema di ricarica delle auto elettriche, abbastanza innovativo che potrebbe dare una svolta al mercato. Si tratta di un sistema di ricarica delle vetture elettriche interamente Wi-Fi, realizzato in collaborazione con la Water City Corporation. La sperimentazione di una ricarica senza alcun tipo di apparecchio sarà avviata proprio nei prossimi mesi. Con il sistema Wi-Fi di Toyota si potrebbe fare quel passo avanti che neanche le Mobility Italy dell'Enel con la Smart, con la quale si può installare una colonnina nel garage a riuscire a fare.